Il progetto di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea Canicatigi e la comiso disposto da rete ferroviaria italiana sta interessato da vicino anche lo scalo licatese dove da quasi un mese si stanno effettuando le migliorie necessarie per adeguare la rete ferroviaria presente in larghi tratti ormai obsoleta. Abbiamo provato a capire in cosa consistono gli interventi in corso di esecuzione. I lavori sono iniziati a marzo e stanno proseguendo circa un chilometro al giorno. A Licata saranno fino a aprile e i primi di maggio. Secondo una prima stima i lavori dovrebbero terminare a dicembre con l'orario 2016. Verranno sostituite in toto le rotaie da quelle da 46 kg a metro a quelle a 60 kg a metro e le traversine verranno completamente restaurate e tolte con le in legno. Dentro dicembre si dovrebbe riscoprire la nuova Licata ferroviariamente parlando. C'è poi il capitolo legato all'imponente edificio che la sera dell'Epifania venne interessato da un vasto ingentio con notevoli conseguenze. Il fabbricato viaggiatori ad oggi è chiuso. Sono state murate le porte dell'atrio e dell'ex biglietteria così da evitare l'intrusione di senza tetto la cui presenza all'interno dello scalo è stata documentata diverse volte. L'unico problema rimane sempre il fabbricato viaggiatori che non si saprà quale sarà la sua sorte perché ora risulta ancora danneggiato dall'incendio e le porte dell'ex atrio e dell'ex biglietteria sono completamente murate. A monitorare da vicino la situazione l'associazione Licata Patria Nostra diretta da Francesco Boschi il quale con rilevi fotografici e continui sopralluoghi controlla lo stato dell'arte e l'avanzamento dei lavori.